Segretario, qui a Montesilvano c'è questo convegno organizzato per parlare del trasporto locale, prospettive ma anche problematiche, in questo momento forse più problemi che prospettive. C'è una situazione paradossale dove finalmente, dico io, la Regione Abruzzo, anche su richiesta sindacale, ha messo insieme le sue tre aziende del trasporto pubblico locale con la finalità di razionalizzare e di fare una struttura industriale che possa servire al servizio dei cittadini per garantire il diritto alla mobilità. Su scala nazionale si affacciano ulteriori riforme che tendono a tagliare le risorse o perlomeno a spingere per una forte razionalizzazione. Quindi con quelle risorse occorre dare il miglior servizio alla comunità. E qui abbiamo un problema, abbiamo il problema che siamo d'accordo come sindacate, anzi abbiamo proposto noi per primi, io ero segretario generale dell'Abruzzo quando uscì questa proposta proprio da noi, di unificare le tre aziende, la Regione finalmente, questa giunta regionale l'ha fatto e occorre una spinta in più perché ci sembra che si stiano ancora allungando i tempi per una effettiva unificazione di tipo industriale che tolga sovrapposizione di corse e magari le metta in momenti di richiesta in evanza e quant'altro. In sintesi, occorre fare il miglio finale per avere questa realtà che non vorrei che si dimenticasse. Il trasporto pubblico locale verrà aperto a gare ad evidenza pubblica e già sotto attacco su scala nazionale anche da aziende che vengono dalla Francia piuttosto che dalla Germania o da altri paesi. E qui si continua a ragionare forse in termini troppo provinciali e non si capisce che si rischia di perdere tutto.